Perciò io per lo 0,60% di errore, come dico loro, perché per me non trattasi di errore, ho perso quello che ho guadagnato sul campo. Quello che è una squadra di provincia, rinata sette anni fa col mio avvento, dopo il più grande crack italiano e forse europeo. Una città che si è sempre contraddistinta per la sua civiltà. Noi oggi siamo qui, io ho avuto botte sulle spalle, ho avuto strette di mano, da qualche centinaia di persone che hanno rinunciato ad andare a lavorare per essere qui oggi e non sono state rispettate, perché siamo troppo civili, perché siamo troppo corretti, perché questo non è il nostro mondo, questo è il mondo degli urlatori, è il mondo di chi tira le bombe carta, è il mondo di chi si spara, è il mondo di chi fa confusione, da chi protesta, da chi urla. Noi siamo gente per bene e stiamo bene a casa nostra. Questo è un messaggio che mando a tutto il mondo dello sport. Siete riusciti a farmi andare via dal mondo dello sport, siete riusciti a farmi abbandonare la mia più grande passione e dovete vergognarvi tutti. Io col calcio ho chiuso, con lo sport ho chiuso, me ne ritorno al mio paesello, però voi vergognatevi di quello che avete fatto. Togliere un successo sul campo a chi fa sport, ma chi mi ha giudicato, chi di chi mi ha giudicato ha mai fatto sport, chi ha mai speso un euro per far sport, tutta gente che ha sempre guadagnato e che ha vissuto alle spalle dello sport, sono questi che mi giudicano? Ma chi ha il coraggio di giudicarmi? Io sono partito della terza categoria, quando gli spettatori della partita erano due, io e il presidente dell'altra squadra, e sono arrivato in Coppa UEFA, e me la sono meritata sul campo e ne sono orgoglioso. Una nota proprio così, per chiudere in bellezza. Negli amici hanno voluto darmi una lettura più chiara della sentenza dell'Alta Corte, che prego la dottoressa Arancati a distribuire a chi ne volesse far preziosa coppia. Leggete i motivi. Quindi l'Alta Corte dice e dichiara sulla sentenza che è una pena che non è equa a quello che è stato la mancanza da noi provocata. L'Alta Corte dice che non ha la giurisprudenza, la possibilità di invertire il verdetto. Ma di cosa stiamo parlando? Ma uno che mi giudica scrive che non ha, nelle sue ipoteri, la possibilità di invertire la pena. Ma di cosa stiamo parlando? Ma sono cose surreali. Un ex ministro che mi scrive una cosa così. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Mi hanno fatto andare nella casa dello sport e mi hanno giudicato persone che non hanno mai fatto sport. E che per lo più mi dicono che ho pure ragione nella sentenza e mi danno torto. Cioè, follie, follie. Comunque non voglio non voglio delungarmi su delle cose che potrebbero essere spiacevoli. Io comunque col calcio ho chiuso. Io ho rassegnato le mie dimissioni dal presidente del Parma Calcio. Ho pregato Pietro Leonardi di gestire la società, di onorare tutto quello che è l'impegno fino al 30 di giugno, dove io personalmente mi sono impegnato di onorare tutti gli impegni che ho preso. Perciò sarà tutto chiaramente garantito, quello che io mi sono impegnato personalmente. Dal primo di luglio comincia un'altra storia. I miei soci qui presenti, anche quelli che non ci sono, hanno voluto condividere con me questa orribile mattinata. Sono uniti al mio pensiero. Perciò il pacchetto di controllo, il 100% del Parma, da oggi è ufficialmente in vendita, è sul mercato. Me ne vado da vincitore, me ne vado da colui che ha vinto sul campo la Coppa UEFA, cioè, scusate, l'accesso alla Coppa UEFA. Ho fatto degli anni stupendi, siamo partiti che non c'era nulla, abbiamo costruito qualcosa di importante. oggi tocca a qualcun altro dimostrare, di avere la passione che ho avuto io in questi anni, tocca a qualcun altro portare rispetto a questa città, a questi tifosi, che proprio per la loro civiltà non sono mai stati rispettati. a questa città,